Il portoguaro Il portoguaro ha vinto Nulla da ridire Ma troppo facilmente Abbiamo concesso dei gol Che dovremmo sicuramente rimediare Su tante cose Perché domenica scorsa Almecchia Comunque avevamo visto Una squadra tonica Oggi forse un po' meno Come reazione Nel secondo turno Però siamo all'inizio Insomma c'è tutto il tempo A recuperare Come avete detto Primo salvarsi O avete qualche ambizione in più? Noi riteniamo Di avere una squadra Che si possa salvare tranquillamente Però sulla carta è una cosa E sul campo è un'altra Oggi era una partita Tra due squadre Che si Equivalevano nei valori Se incominciamo a perdere partite Come questa Sarà poi difficile salvarsi Quindi sarà meglio Mettersi e rimboccarsi le maniche E incominciare a lavorare Le faccio una domanda Che non si dovrebbe mai fare Secondo lei Almeno al presidente La Fossaltese Ha sbagliato qualcosa In campo O è una partita Che ha rispicchiato I valori di oggi? Ma Ogni partita E' a senso Quindi Difficile poi Dare un giudizio Ripeto Il Portogallo ha fatto due gol Noi ne abbiamo fatto uno Ha vinto Quindi nulla da ridire Così Sulla carta A mio parere Gli organici Si equivalgono Ma quindi In prospettiva Dico Noi dobbiamo lavorare Per salvarci Per trovare una buona salvezza La partita di oggi E' finita così Ci sono tanti errori da parte nostra Quindi è andata Non dico archiviamola Perché no Dobbiamo farne Buon uso di questa gara E' domenica Serico Grazie 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 Grazie